Uè non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice creator. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi mamma mia oramai ci siamo! Due ore al downtime dei server, la patch sta arrivando! Nel video di oggi ragazzi parleremo delle ultimissime novità riguardanti ovviamente il nostro Fortnite. Novità davvero super super interessanti. Tratteremo della patch 7.4 come non potremo farlo ma parleremo anche della nuova arma già presente in game. E non è! Il nuovo fucile, quello che tutti ci aspettiamo con questa patch. E ragazzi grandissima indiscrezione la possibilità di un nuovo concerto virtuale come quello che abbiamo già vissuto il 2 febbraio dove suonò ovviamente Marshmallow. Ce lo ricordiamo tutti! Mi raccomando però eh di lasciare un bel pollicione in su e ne approfitto per ringraziarvi tutti di cuore per supportarmi con il mio codice XIUDERONE. Quando scioppate di prepotenza grazie, grazie davvero a tutti e non dimenticate soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna news e nessuna live ogni giorno. Ma prima ragazzi, la domanda ragazzi lo sapete ci tengo tantissimo alle vostre risposte qui sotto nei commenti alla mia domanda. E la domanda di oggi è un po' particolare ragazzi, non ve l'avevo mai fatta. Ma qual è il tuo quartiere preferito? Non so se avete notato che è tornato proprio da un giorno, da meno di un giorno, di nuovo il campo da football, meraviglioso come quartiere, che torna a sostituire il vecchio quartiere dedicato al Capodanno cinese. Il vostro preferito in generale, diciamo che ne abbiamo già visti un po', a me personalmente ragazzi mi piace tantissimo quello là, dove c'è la piccola pinnacoli, chiamiamola un po' così, quello che aveva veramente un bello stile, un sacco di case, un sacco di loot e un sacco di passaggi. Fatemi sapere ragazzi qual è il vostro quartiere preferito qui sotto. Ma, ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare ragazzi di quando sarà questo update. Beh ragazzi, la notizia è ufficiale, la abbiamo anche nella dashboard, nella lobby del nostro gioco. Arriverà proprio oggi alle ore 10 e ragazzi vi garantisco sarà un update molto pesante e molto interessante. Si parla di un huge update, quindi un update molto aspettato dalla community di Fortnite, dai leakers, dai giocatori, dallo stesso team di sviluppo che vuole vedere come sarà l'impatto dei giocatori con questo update, che apporterà delle modifiche, ma soprattutto quello che a me preme ragazzi è quello che non vediamo, ma quello che c'è nell'update, quindi i leak ragazzi ve li dirò, non preoccupatevi, aspettatevi nella giornata di oggi magari altri video dedicati a leak, magari roba veramente super seria. Ovviamente con l'update inizierà anche l'evento finalmente di San Valentino, essendo oggi San Valentino, auguri a tutti i Valentini. Così. E come si dice, mi raccomando, otterrete ovviamente la skin per i veicoli e per le armi gratuitamente, nonché ragazzi la possibilità di sbloccare 5 nuove skin per i possessori del pass battaglia. Staremo tutti ovviamente ad aspettare questo update. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo anche di una novità nello Sacred Skirmish. Io vi invito ad andare a vederlo, ragazzi, inizia questo weekend sabato e domenica. Ieri ne abbiamo già parlato nel video, l'altro ieri, no ieri, ieri, ne abbiamo già parlato nel video e la modifica che c'è stata ragazzi è proprio scritta in questo post ufficiale pubblicato da parte di Epic Games. Probabilmente una cosa che non sono riusciti a fare, in quanto stavano appunto concentrando tutte le energie sui problemi che ha dato questo update appunto ritardato di due giorni. Quindi volevano inserire alcune competizioni non Battle Royale a premi. 25.000 dollari erano dedicati a queste competizioni. Non c'è stato il tempo di farlo. Quindi vedremo semplicemente le due modalità solo e duo. Vi ricordo il vincitore della modalità solo 400.000 dollari. I vincitori della modalità 200.000 dollari da smezzarsi. Quindi 50 capocchioni a testa. Vi invito ragazzi davvero sulla pagina di Twitch ad andare a vedere il loro evento perché ci sono i più grandi giocatori mondiali. Sicuramente i più forti perché sono tutti frutto di selezioni durissime. Ma andiamo avanti e parliamo della nuova arma. Eccola, quella presente su Salva al Mondo. Per chi gioca Save the World avrà già visto sicuramente la notizia. È un nuovo fucile da cecchino ragazzi che si chiama Valvasore. Basta un colpo. Un potente fucile di precisione che spara giovellotti perforanti capaci di infliggere danni devastanti. Molto molto carino ragazzi come... Come si dice come design veramente a me piace la roba relativa al Medioevo. Qua si può notare tranquillamente alcuni richiami alla skin del Cavaliere Royale. Quello della season 2 per chi lo ha ben presente. Nuovo fucile da cecchino devastante e super super interessante. Quindi chi gioca a Save the World mi faccia sapere com'è. Io sono molto curioso di sapere com'è. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di questo nuovo concerto che sembrerebbe si stia organizzando proprio in questi giorni per un nuovo evento virtuale. Dato il successo incredibile dell'evento di Marshmallow con milioni di persone collegate simultaneamente a viverlo anche perché ve lo ricordo se per caso non lo sapevate il concerto è stato reale. Non abbiamo sentito una traccia registrata ma c'era una radio in podcast collegata in streaming direttamente con Marshmallow. Quindi quello che è stato sentito era fatto in tempo reale. E ci sono cinque nuovi artisti in lizza per esibirsi virtualmente su un possibile futuro concerto. Drake che già conosciamo nell'ambito di Fortnite avendo giocato se non ricordo male insieme a Ninja, insieme a Juju, insieme a Travis Scott nel 2018 e Drake è il creatore della canzone God's Plan quindi sicuramente lo conoscerete meglio di me. Bruno Mars è un altro DJ che è in lizza per partecipare a questo evento. Ha scritto 24k magic quindi la magia dei 24 karat intesi per loro. Abbiamo BTS che sono una boy band sud coreana. Sapete che c'è sempre in mezzo l'Ovest per... no l'Ovest, l'Asia. Quella gente là nel senso quando si fanno degli eventi. E Ariana Grande che è una dei top al mondo nel 2018 avendo scritto parecchi singoli di grande successo. Staremo ovviamente a vedere ragazzi quello che succederà. Io mi aspetterei davvero altre performance tipo quelle del signor Marshmallow. Ma voglio chiudere ragazzi le news di oggi proponendovi gli ultimi oggetti ancora non rilasciati, presenti nei file di gioco non rilasciati ufficialmente. Il mio preferito ragazzi è il secondo piccone, il Flimsy Floal. Se lo volessimo pronunciare più o meno correttamente è veramente tanta tanta roba. Un piccone verde incazzato nero con i Pungible ai lati. Non vedo l'ora di vederlo perché è lì veramente da parecchio tempo così come anche il Longhorn. Quindi il piccone che va a richiamare l'era dei Cowboy e del Selvaggio West. Abbiamo anche ben 4 deltaplani ancora non rilasciati. L'Extra Cheese che sembrava andasse insieme alla skin della meccanica. Quella appena uscita praticamente insieme al robottino. Abbiamo altri 3 deltaplani semplicemente con delle varianti e anche lo Squid Striker che dovrebbe essere il piccone integrante del set Nautilus. Set che conosciamo l'esistenza. Abbiamo visto oramai quasi un mese fa già gli oggetti che ne fanno parte ma ancora non presente nei file di gioco. Beh ragazzi a me non resta che augurarvi una buona giornata. Grazie a tutti per aver guardato il video. Mi raccomando un bel like. Noi ci vediamo oggi live alle 13 con la patch 7.4. Ciao!